Per capire se la curva dei contagi potrà stabilizzarsi, ci vorranno almeno altri dieci giorni, secondo gli addetti lavori. Per il momento nessuna tregua per la Valle Peligna che continua a registrare contagi da Covid-19. Gli ultimi casi accertati sono cinque. All'elenco dei positivi, dove tre contagi registrati nel pomeriggio di ieri a Pettorano sul Gizio, che fanno riferimento al cosiddetto focolaio di Ferragosto per due soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, padre e figlio. È un 34enne di Valle Larga. Si è aggiunto nella serata di ieri anche un anziano domiciliato nella frazione di Torredenolfi di Bugnara, anche se non residente in paese. L'uomo aveva richiesto le cure ospedaliere dove aver avvertito una sintomatologia riconducibile al Covid, ovvero decimi di febbre da qualche giorno. Dopo l'essito positivo del tampone è scattato il ricovero presso il reparto malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Da quanto si è appreso avrebbe partecipato una funzione religiosa all'aperto, svoltasi nel rispetto delle regole e delle misure anti-Covid, a ridosso del Ferragosto, per cui il tracciamento dei contatti dovrà tener conto di quell'evento, l'anziano e il nono paziente Covid che entra a San Salvatore. Nella tarta serata di ieri si è aperto intanto un nuovo fronte anche a Prato-la-Pelinia, dove è risultata positiva una donna di mezza età che non è collegata con il primo focolaio della festa di compleanno che sembra ormai assestato. Salgono quindi a 66 i casi Covid accertati in Valle Pelinia che si vanno ad aggiungere quattro conteggiati in alto sangro per arrivare alla cifra tonda dei 70. Non uno scherzo, insomma. I numeri devono far riflettere sulle famose misure straordinarie che vengono invocate dai politici. Ieri Sulmona ha adottato l'ordinanza della mascherina obbligatoria H24 in tutta la città, ma qualcuno ha suggerito disciplinare meglio gli orari dei locali. Molto dipenderà dal Comitato Ordine e Sicurezza richiesto da Sindaco Casini. Per l'utenza ci vogliono più controlli, soprattutto per i soggetti posti in sorveglianza attiva a fronte delle numerose segnalazioni di chi in questi giorni l'avrebbe violata. Per dirla con le parole degli addetti ai lavori, la situazione sta diventando insostenibile perché a fronte di nuovi positivi ci sono sempre più contatti da mappare con la carenza di organico che rischia di bloccare il sistema. L'elenco della sorveglianza attiva conta 428 persone, compresi circa 10 dipendenti di uno stabilimento sulmonese dove lavora uno degli ultimi giovani risultato positivo al virus, mentre la mappa dei contagi risulta così aggiornata. 35 casi a Sulmona, 12 Pettorano Sulgizio, 7 Prato La Peligna, 5 Bugnara, 4 Entrodacqua, 1 Corfinio, 1 Pacentro, 1 Scanno per l'area Peligna, 3 Pescasseroli, uno scontrone per l'area sangrina. Dei 70 pazienti Covid solo 9 si trovano in ospedale, mentre tutti gli altri in isolamento domiciliare, ma l'attenzione deve restare alta. È ormai provato che laddove esiste prudenza il virus non entra, come nel caso dell'ospedale di Sulmona e di altri luoghi di lavoro dove le misure vengono rispettate. Le parole d'ordine ora sono due, responsabilità e serietà.